L'ambulanza si impantana nel campo da rugby e a tirarla fuori ci pensano con tutta la loro forza fisica i giocatori. È successo ieri durante la partita di Serie C 1 Mirano-Bassano giocata nel campo veneziano. Le due squadre avversarie si sono unite per far uscire dal pantano l'ambulanza bloccata. Per primo tranquillizziamo che non è servita, secondo quando c'è bisogno, il sostegno dei regbisti non manca mai, ha scritto sul proprio profilo la società del rugby Mirano. E se le due squadre sono state alla pari in fatto di sportività, lo stesso non è stato in campo, dato che a vincere la partita alla fine sono stati i padroni di casa 41-0.